Sono 1.545 i piloti interessati dal calendario per gli incontri con i sindacati. Le parti in causa dovranno discutere dei 350 esuberi che riguarda la categoria e di come far fronte ai tagli che la compagnia ha richiesto. Tenendo conto che per i piloti la cassa integrazione non è prevista, grazie al cosiddetto fondo volo per i contratti di solidarietà, è garantito l'80% della retribuzione. E in più potrebbero usufruire della contribuzione previdenziale per il 50% dell'indenità di volo, provvedimento previsto dal decreto destinazione Italia. In merito al personale di terra, il piano industriale prevede 480 esuberi. Secondo fonti sindacali, la proposta aziendale prevede la cassa integrazione a rotazione nello scalo romano di Fiumicino di 660 lavoratori dai 3 ai 9 giorni al mese. Per il settore della manutenzione, la cassa integrazione a rotazione dovrebbe riguardare 1.500 dipendenti da 1 a 5 giorni al mese. Con il nuovo piano, la proposta aziendale prevederebbe un aumento della cassa integrazione tra i 5 e i 16 giorni al mese. I sindacati non hanno ancora dato parere positivo alla proposta aziendale.